Insomma non era semplice anche perché quando mancano le motivazioni, visto che eravate già nei quarti, non è semplice giocare, invece oggi l'avete fatto bene. Sì, 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 non era proprio una gara semplice perché tutti e due squadre sapevano che in teoria questa gara non valeva niente, però comunque noi siamo dei giocatori, noi siamo dei combattitori, volevamo vincere, volevamo fare vedere che siamo in forma e assolutamente sono contento che tutti i ragazzi hanno lottato fino alla fine. Come abbiamo detto all'inizio non era semplice però l'abbiamo vinto e io sono molto contento per i ragazzi e per tutta la squadra. Lenti avete chiuso il girone, imbattuti, terza vittoria quindi per voi consecutiva. Ci sono delle ottime premesse per l'inizio della stagione che inizia domenica a Modena? Sì, cioè quello era l'obiettivo diciamo di oggi di prepararsi bene per la domenica, di farsi buon ritmo del gioco, buona atmosfera in campo per arrivare bene domenica a Modena e prendere punti lì. Che Monza sarà in questa stagione? Io direi partita dopo partita, noi vogliamo vincere assolutamente ogni partita però però dobbiamo prepararsi settimana dopo settimana, chi arriva arriva e noi vogliamo vincere contro tutti. Grazie.